e così avverrà come i giorni di Noè se l'umanità non si ravvede e dai propri peccati a Gesù Cristo il mondo sarà distrutto dal fuoco dell'ira di Dio se l'uomo non si pende dai propri peccati se l'uomo non si pende dai propri peccati il mondo sarà distrutto dal fuoco leggete la Bibbia Alleluia, gloria al Signore Padre, tocco ogni cuore Padre nel nome di Gesù alla salvezza della propria anima perché la Bibbia dice Gesù Cristo vi voglio citare questo passo che il nostro Signore ha detto ascoltate e ripetete, Gesù Cristo lo dice nel Vangelo a che serve? All'uomo guadagnare tutto il mondo e poi perde la sua anima cosa può dare l'uomo in cambio per la salvezza della propria anima? chiamo i nostri suori a Gesù Cristo cerca vive il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le cose di questa vita è Dio che te le provvede Alleluia, gloria al Signore Dio sa che abbiamo bisogno di una casa, di una voce, di un marito Dio lo sa cerca vive il regno e la giustizia di Dio cerca vive la salvezza della tua anima e tutte le cose di questa vita ti saranno sopraggiunte da Dio amè 20 progetti nelle mani di Cristo e allora essi riusciranno Alleluia, gloria al Signore Lowry is the Lord of harus anza?... orr... gorre Red Grazie a tutti.